Ehi, come ti chiamo? Non posso parlare con te. Perché no? Sei del mondo di sotto. Io sono Adam. Le abitanti del mondo di sotto sono stati arrestati, alimentando l'odio tra i due popoli. Noi non scendiamo nel loro mondo e di sicuro non vogliamo che salgano qui da noi. Osserviamo una separazione assoluta. Ti ha proibito qualsiasi contatto con gli abitanti del nostro mondo. Ehi! Immagina di potercene andare dovunque vogliamo. Polizia di frontiera! Prendetele tra i due! No! Edel! Prova a contattarla di nuovo e ti costerà la vita. Devi aiutarmi. Qual è il tuo piano? Ritrovarla a tutti i costi. Non capisci che se vai da loro ti farai ammazzare? Che nessuno si muova! Devo andare. No! Ehi! La polizia di frontiera ha intrapreso una massiccia caccia all'uomo. Se esiste anche una sola possibilità di rivederla, io devo farlo. Non mollare! Mi dispiace. No! Se esiste anche una sola possibilità di rivederla. Grazie.